Fabio Ferrari, come giudica questa commissione? Il giudizio su questa commissione è negativo, negativo perché c'è stata imposta. Io contesto essenzialmente il metodo con cui il sindaco, il vice sindaco, hanno dovuto imporre a tutto il gruppo consigliare una scelta che è maturata in soli tre giorni e sul quale non è stata fornita alcuna spiegazione. Tant'è che io non ho nessun preconcetto alla costituzione di una nomina di consulenti. Ma il problema che si è venuto a verificare è che la scelta non è stata possibile trattarla con il resto del gruppo, individuare i professionisti adatti e di conseguenza alle mie richieste che venisse messa a contratto un controllo da parte dei consiglieri, garantito anche solo nei confronti della stampa, dei comunicati stampa, mancando questo inevitabilmente sono arrivato a pensare un po' male sulla vicenda. Di conseguenza ho cominciato a avere dubbi anche sulla composizione stessa della Commissione, che è un altro argomento che ho trattato anche nella lettera pubblica che ho scritto. Cone vorrebbe anche chiedere, mi sembra, di capire la sua posizione ora rispetto alla maggioranza. Io mi ritengo di maggioranza e di vi, Presolana, perché io ho sottoscritto un programma elettorale con tutto l'elettorato che si basa su tre semplici parole che non sono parole messe su un foglio e che rimangono lì, che sono trasparenza, confronto ed ascolto, che di conseguenza evitano della presenza di filtri tra il pubblico, tra i cittadini e l'amministrazione comunale senza filtri, perché la trasparenza è l'eletto che si rapporta ai suoi elettori, ai suoi cittadini, senza filtri. Di conseguenza vedere una Commissione che, come ha confermato ancora il Sindaco, deve rimanere permanente, è dura da digerire. Di conseguenza, rispetto alla maggioranza, io continuo a considerarmi di maggioranza, ma su questo punto non transigerò e dovrò mostrarmi sempre più determinato a fare in modo che questa Commissione venga revocata. Certo che dall'altra parte la maggioranza potrebbe esprimere un giudizio invece sulla sua persona, ora che mi sembra di capire che c'è comunque qualche attrito. Ma io posso anche accettare un giudizio sul modo con cui sono arrivato a dover manifestare pubblicamente questa situazione, ma prima di arrivare qui, prima di arrivare davanti a una telecamera, prima di arrivare sul giornale, io ho cercato all'interno del gruppo e soprattutto col Sindaco di chiarire la posizione, ma lui ha purtroppo dei pessimi consiglieri e non consiglieri comunali, dei consiglieri esterni che sono arrivati quasi ad autoimporsi e quindi il valore del giudizio dei consiglieri comunali messo in secondo piano, anche se oggi mi fa apparire come un elemento negativo di fronte al gruppo, io so che sto lavorando ancora per il valore che ha Vipresolana per me e penso per tutto il suo elettorato e oggi che siamo amministrazione verso tutti i cittadini del paese. E riguardo invece la sua carica di capogruppo? Beh, al giorno 26 gennaio dall'Ufficio Tecnico del Comune, non l'Ufficio Opere Pubblico ovviamente, mi è arrivata una comunicazione sulla delibera consigliare all'attenzione del capogruppo Fabio Ferrari, quindi vorrei chiedere come mai dal 2 dicembre al 26 gennaio nessuno ha comunicato all'Ufficio che io non ero più capogruppo, pertanto se mi chiamo capogruppo una motivazione c'è.